Ciao Cipollino, come va? Ti ricordi, tutto è iniziato quella sera che nessuno dei due voleva uscire, però ad oggi posso dire a gran voce che ne va a essere appena. Hai sentito dire che i diamanti brillano di luce propria, allora indossa questi che brilleranno della tua luce perché tu sei il mio diamante e la mia luce ti amo, ti aspetto. Io ti giudissimo. No, 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 no. Siete riscossi a raccogliere il tuo amore, i viti che Dio vorrà donarmi e aiutare secondo la legge di Cristo e nella tua Chiesa. Dio mi potrebbe e augurare. Dio mi potrebbe e Grazie a tutti Grazie